Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a vedere un'altra piattaforma, l'andiamo a testare insieme, in realtà io la sto provando già da due giorni, abbiamo visto qualche piattaforma simile in passato, andiamo a vedere se anche questa funziona oppure no, l'andiamo a vedere semplicemente insieme, proviamo a fare tutto, anche la prova di prelievo per vedere se pagherà. Stiamo parlando di Delzer.biz, c'è il link in descrizione se la volete testare, il deposito minimo è di un dollaro, come dicevo abbiamo già visto piattaforme come queste, ovviamente vi ricordo che siamo qui soltanto per testarle, ragazzi non è che sono piattaforme che vi arricchiranno, anzi ho i miei seri dubbi, anche perché le percentuali sono veramente alte e non so quanto sia sostenibile questa cosa, però andiamo a vedere insieme. Vi ricordo come al solito che non sono un consulente finanziario e quindi, ripeto, siamo qui soltanto per testarle insieme. Prima di cominciare ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e adesso ci spostiamo al pc e andiamo a vedere un po' come funziona. Ecco qua, siamo nella home page, ecco qua, account balance 53,04$, totale deposito, ovviamente ti calcola quante volte è stato depositato, nel senso io ho depositato la prima volta 50 dollari, poi ho fatto l'investimento, ho ritirato, ho ridepositato e adesso mi sono rientrati, quindi te lo calcola, diciamo in totale anche con i tuoi depositi. Ecco qua, deposito, ecco qua dovrebbe esserci, questo è stato il primo deposito, ecco qua, poi li ho, praticamente li ho reinvestiti, sono ritornati e li ho reinvestiti tutti. Vediamo qua quanto abbiamo adesso, anzi andiamo a vedere per fare il deposito come funziona, vabbè, come al solito, 3,5% per ora, però se facciamo il deposito massimo e li lasciamo qua, poi c'è il 14% ogni 10 ore, vabbè, ormai è simile alle altre, non so quanto potrebbe andare. Ecco qua, questo è il nostro account balance bitcoin, possiamo provare, io ancora devo inserire indirizzo e tutto, quindi possiamo provare appunto a prelevare pure una quindicina di dollari, perché come al solito il prelevo minimo è di 15 dollari, di 13 dollari in valore di bitcoin. Voglio andare a vedere per depositare, qua si ritirano i fondi, ecco qua, un attimo qua si ritira, volevo vedere, ecco qua, io non ho inserito nessun indirizzo, andrò ad inserire il mio indirizzo bitcoin e proviamo a prelevare, anche perché ho solo bitcoin. Ormai utilizzo solo questo con questi siti perché so che, tra virgolette, è quello che funziona di più, con altre valute, qualcuno, io non ho mai provato, anzi andremo a testare con gli altri siti, perché a me stanno funzionando ancora, andremo a testare. Ok, qua possiamo andare a fare un deposito, se clicchiamo qua, ad esempio io voglio fare questo deposito, il deposito minimo è di un dollaro, se io voglio andare a depositare bitcoin, praticamente un dollaro, andiamo qua e ci fa depositare, se vogliamo fare un nuovo deposito, cioè tra virgolette dal nostro portafoglio, diciamo così, un nuovo deposito. Visto che io ho già depositato ieri appunto 50 dollari, adesso possiamo provare a prelevare. Quindi preleva fondi, ecco qua, andiamo su bitcoin, andiamo ad inserire il nostro indirizzo che adesso andrò a prendere da Binance, dovete prendere dal telefono perché mi è molto più facile. Quindi andiamo su Binance, ve lo dico magari per chi non sapesse, andiamo su Binance, clicchiamo su BTC, facciamo deposita, vi dirà la rete, inserite bitcoin e sotto vi darà l'indirizzo. Lo copiate, ecco qua, copiato negli appunti e adesso lo andrò ad incollare nelle note del pc in modo da fare tutto in modo più semplice. Ecco qua, aprendo le note, adesso dovrei trovare appunto l'indirizzo che ho copiato. Eccolo qua, ce lo dà già subito, per questo adoro il Mac. Ecco qua, andiamo on bitcoin, ovviamente vi ripeto questi sono siti che sono di dubbia facenza, quindi non saprei come dirlo. Ecco qua, bitcoin, dobbiamo trovare la rete bitcoin, bitcoin, bitcoin access, ecco qua, incolla. Ecco qua, abbiamo incollato il nostro indirizzo a bitcoin appunto nella casella giusta. Andate sempre a controllare che sia corretto, va bene, io diciamo che mi fido. Ovviamente per ricevere poi indietro i soldi ci vorranno una quindicina di minuti, almeno solitamente io, non lo so, queste piattaforme ci mettono così. A questo punto andiamo nella pagina di prelevo, ecco qua, withdraw, e ci dice che abbiamo appunto bitcoin, ecco qua, con l'indirizzo corretto dovrebbe essere vicino. Facciamo un 20 dollari, vediamo come fare questo. Ovviamente, ripeto, ci vogliono, solitamente ci mettono queste piattaforme una quindicina di minuti, 20 minuti per ritornare. Ah, non ho selezionato appunto 20 cosa, non glielo ho detto. Ecco qua, conferma, 20 dollari che equivalgono a 0,004, ok. Non ci sono fi da pagare, miracolo, non lo so come sia possibile questa cosa, ma va bene, ci fidiamo di quello che dite. Non so se in controvalore forse ci ha fatto perdere qualcosa, ma va bene. Senti, io non so se a questo punto la conferma sia andata a buon fine, sta caricando e fa ancora la stessa cosa. Ecco qua, ne ho fatte due da 20, ecco qua, per cliccare due volte ne ho fatte due da 20, quindi ci sono rimasti, ecco qua, 13 dollari e 0,004. Adesso andiamo nella storia del prelevo, ecco qua, ci dice che sono qua. Dobbiamo aspettare soltanto sul nostro Binance che ci arrivi la notifica e dice che i fondi sono arrivati. Aspetterò nel frattempo, sono 40 dollari che dobbiamo prelevare, il resto magari lo andiamo a reinvestire, anzi così facciamo vedere anche come possiamo appunto reinvestire un nuovo deposito. Io farei così 14% per 10 ore, lasciamo questa cifra qua, andiamo a selezionare la moneta che ci interessa, in questo caso Bitcoin, 13 dollari e 0,004. Vabbè mettiamo 13 dollari, dai facciamo il conto pari e li vado a ridepositare appunto aspettando queste quante ore sono, mi sembra 10, 10 ore, ok. Poi se andiamo a vedere nel nostro storia deposito, no, depositi attivi, ecco qua, nei tuoi depositi, nei depositi attivi ci dovrebbe uscire, ecco qua, 13 dollari, questo è tutto quello che sono andato ad investire, come ripeto, il totale, cioè 50 dollari la prima volta, poi ne ho recuperati tipo 52,50, quindi ho rimesso altri 52,50 e siamo arrivati a questa cifra qua. Niente, aspettiamo nel frattempo, attendo che arrivi, se arrivi ovviamente perché vi dirò tutto, se va e se non va sono qui ad informarvi. In realtà ci ha messo anche meno di 10 minuti perché è arrivata adesso, ecco qua, la confermo, ho registrato lo schermo così lo potete vedere qua, appunto il tuo deposito è stato confermato di 0,0004 bitcoin, se andiamo a cliccare sulla notifica può essere ci dice da dove, no, ok, è ricevuto, vabbè l'importante è che l'abbiamo ricevuto uno dei due in realtà perché dovrebbe essere arrivato un altro, vediamo, l'ho fatto a poco tempo di distanza quindi tra poco dovrebbe arrivare anche l'altro sostanzialmente, che poi tra virgolette vorrei andare a vedere 0,0, vediamo il valore di bitcoin quanto equivale, bitcoin dollaro, andiamo a vedere, vediamo 0,0047, vediamo un po', più o meno, ah, ecco qua, 19 dollari e 71, 7, 9, 0, 4, ah, 20 dollari e 0, 8, ci hanno dato anche 8 centesimi in più, addirittura non si pagano le commissioni ma ci dà anche 8 centesimi in più, attendiamo perché ormai sono curioso anche io di vedere cosa succede, intanto aggiorniamo qua, vediamo se si toglie il primo deposito, se ce lo legge, se dice che è stato tolto, ok, ecco, no, pensavo che ci dicesse tipo già in corso oppure già pagato, quindi ancora niente, sinceramente a questo punto mi sta avvenendo il dubbio, ecco qua, forse quando abbiamo cliccato la seconda volta magari non abbiamo messo l'indirizzo perché vedo qua, praticamente qua ci dice l'indirizzo, qua è come se non ci fosse un indirizzo, adesso non so quanto sia colpa nostra, se magari è così oppure magari mi sto impressionando e tra poco arriverà, fatto sta che uno è arrivato e l'altro no, quindi attendiamo, vediamo cosa succede, nel frattempo io direi di cominciare a montare il video, magari mi anticipo un po' di lavoro perché secondo me non arriverà il secondo, potrà essere un errore nostro, non lo so, forse qua cliccando subito la seconda volta non sono andato a inserire l'indirizzo di prelievo, però ci dovrebbe dare la possibilità di annullarlo, questo credo che dovrebbe essere possibile almeno, in realtà no, perché anche qua vedete il richiesto e qua ci dà l'indirizzo e qua invece è come se non ci fosse un indirizzo. Niente ragazzi, per ora non so, ripeto, può essere stato un errore mio che nel secondo prelievo non ho inserito su quale indirizzo prelevare, diciamo che io per ora comincio a chiudere il video, comincio a anticiparmi anche un po' di lavoro, se dovesse arrivare il prelievo vi lascerò sicuramente la clip, aggiungerò dopo la clip, in tal caso ragazzi abbiamo prelevato 20 dollari, 20 sono arrivati, 20 diciamo che è stato forse un errore mio, non lo so, continueremo sicuramente con queste piattaforme se continueranno ad andare avanti, se riusciranno ad andare avanti, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!